nuovi biscotti tremarie morbidosi mirtiglie rossi e mandorle difficilissimo creare dei biscotti morbidosi innanzitutto delusione perché si ok ma davvero super piccoli allora morbidosi sono morbidosi devo dire sono super buoni la frutta dentro super fizziosa e poi c'è l'uvetta che buonissima per me rubetta un motivo principale per cui compro i panettoni ok sono buoni raga sappiate che mentre facevo questo assaggio di un biscotto che ho avuto il telefono 60 volte per sto vento guarda che bello comunque sono buonissimi però porca puttana uno di questi c'ha 58 calorie quindi è mi sembra un po eccessivo cioè lo è raga dentro un biscotto sono tre grammi di zucchero comunque se vuoi approvatissimi e prima di tutto sommato si provano fortissimo non ci riescono pure dai le mangerei un cuore ma troppo che lo dire pizza caglio dice sì 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 e ancora sì ma beh dai ancora uno ancora uno poi basta però poi basta poi basta comunque si sente l'uvetta e si sentono i mirtilli le mandorle non sono pervenute buonissimi ma questo è